Ehi, ciao! Aspetta, non aver paura. No, non li vuoi i tuoi soldi. Ma davvero pensi che quello di cui ho bisogno siano i soldi? Cioè, secondo te basta darmi dei soldi per rendermi felice? Guarda che è vero, non fanno la felicità. Vuoi davvero sapere cosa potrebbe rendermi felice? Il tuo tempo, la solitudine mi sta divorando. Il favore non lo fai facendo compagnia all'amico che sta bene. Il favore lo fai facendo compagnia a chi è in difficoltà e ne ha veramente bisogno. Non pensi sia troppo comodo lasciare gli spicci e andarsene col cuore sollevato? Pensaci! Il favore lo fai facendo compagnia all'amico che sta bene. Il favore lo fai facendo compagnia all'amico che sta bene.